Mi chiamo Caramanico Rosita e sono una ricercatrice del CREA dell'unità di Milano che si occupa delle trasformazioni alimentari. Anch'io partecipo al progetto Profumo e la mia presentazione riguarderà le trasformazioni alimentari che sono proviste all'interno del progetto, soprattutto la trasformazione delle mele e dei mirtilli in prodotti disidratati, prodotti di quarta gamma e la produzione di nettari per poter incrementare il reddito delle piccole aziende presenti sul territorio della Valtellina. Grazie a tutti.